La palla di biliardo James Preece, dovrei dire il professor Preece, ma tutti sanno chi è anche se tralascio la qualifica, si esprimeva sempre con molta lentezza. Lo so perché lo intervistavo spesso. Possedeva il cervello più straordinario che si fosse mai visto dai tempi di Einstein, un cervello davvero eccezionale, ma che non era in grado di funzionare con rapidità. Lui stesso non ne faceva mistero. Forse proprio perché era tanto possente, la sua mente aveva bisogno di tempo. Astraeva laboriosamente il concetto, ci meditava sopra e infine tirava fuori a fatica le parole una dopo l'altra. Anche su cose banali indugiava a lungo, aggiungendo un tocco qua e uno là al ragionamento. Preece non era capace, per esempio, di chiedersi senza tante storie, ci sarà il sole domani? Ma che? Incominciava subito ad arzigogolare. Che cosa intendiamo per esserci? Siamo poi certi che esista un domani? Il termine sole non è forse troppo ambiguo? Aggiungiamo a questo suo modo di esprimersi un aspetto scialbo e incolore, un'espressione di perenne incertezza, capelli grigi e sottili accuratamente lisciati, abiti da passeggio di taglio tradizionale e avremo un'idea esatta di quello che era il professor Priss, un tipo riservato e assolutamente sprovvisto di fascino. Considerato tutto questo, nessuno al mondo, tranne me, poteva sospettare che fosse un assassino. E neppure io ne sono completamente sicuro, in fin dei conti i suoi processi mentali erano lenti e lo erano sempre. È possibile che in un momento cruciale lui fosse riuscito a pensare e ad agire rapidamente per una volta sola? Comunque non ha importanza. Anche se ha ucciso, l'ha fatta franca. Ormai è troppo tardi per cercare di chiarire i fatti. Non ce la farei neanche pubblicando questo scritto. Edward Bloom era stato compagno di Priss in collegio e all'università. Le circostanze avevano fatto sì che in seguito diventasse suo socio. Avevano la stessa età e la medesima inclinazione per la vita da scapolo, ma erano esattamente uno l'opposto dell'altro in tutto il resto. Bloom era la vivacità in persona, colorito, alto, robusto, impetuoso e sicuro di sé. La sua mente sapeva cogliere l'essenziale con la rapidità, l'immediatezza e l'imprevedibilità di una meteora. Non era un teorico, come Priss. Non aveva né la capacità né la costanza di concentrarsi intensamente su di un unico punto astratto. Lo ammetteva e se ne vantava. In cambio, aveva il dono quasi soprannaturale di vedere subito l'applicazione di una teoria, il modo di servirsene. Nel gelido blocco di marmo della struttura astratta, riusciva a scorgere, senza difficoltà evidente, il disegno complicato di un congegno meraviglioso. Il blocco si apriva come per un tocco magico e al suo posto arrestava il congegno. È noto, non si tratta di esagerazione, che nessuna delle macchine costruite da Bloom si è mai rifiutata di funzionare e che le sue invenzioni si sono sempre dimostrate lucrose. A 45 anni era uno degli uomini più ricchi della Terra. Inoltre, niente si confaceva meglio, a Bloom il tecnico, del modo di pensare di Priss il teorico. I più famosi dispositivi del primo erano stati costruiti basandosi sulle più grandi teorie del secondo. E mentre Bloom diventava ricco e famoso, Priss si guadagnava un immenso rispetto tra i suoi colleghi. Perciò, quando Priss espose la sua teoria dei due campi, era logico aspettarsi che Bloom si mettesse immediatamente a costruire il primo congegno antigravità. Mi era stato assegnato il compito di scrivere un bell'articolo per gli abbonati al Tele News Press, scovando un interesse umano nella teoria dei due campi. Ma questo avrei potuto farlo soltanto trattando con uomini e non con idee astratte. E siccome la persona che avrei dovuto intervistare era il professor Priss, la cosa non si presentava facile. Naturalmente decisi di chiedere notizie sull'antigravità, perché questa interessava chiunque, e di lasciare invece da parte la teoria dei due campi di cui nessuno capiva un H. L'antigravità? Priss strinse le labbra pallide e considerò la questione. Non sono del tutto certo che sia possibile né ora né in seguito. Non avendo analizzato sufficientemente il problema, non so ancora se le equazioni dei due campi avranno una soluzione finita. Questo naturalmente sarebbe indispensabile nel caso che... e si immerse nei suoi pensieri. L'oppungolai. Bloom dice che è possibile costruire un congegno del genere. Priss annui. Beh, forse sì, ma io non ne sono sicuro. Comunque, Bloom ha dimostrato di essere abilissimo nell'azzecare quello che non è evidente. Ha una mente fuori del comune che gli ha procurato notevole ricchezza. Eravamo seduti nell'appartamento di Priss e non potei trattenermi da lanciare un'occhiata attorno. Era un quartierino senza pretese, da media borghesia. Il professore non era certo in condizioni economiche particolarmente floride. Non penso che leggesse nella mia mente, ma notò la mia occhiata. E poi credo che fosse il suo pensiero fisso. La ricchezza non è il compenso normale per lo scienziato puro, mormorò, e forse non è neppure desiderabile. Pensai che forse aveva ragione. Priss aveva ricevuto sicuramente la sua ricompensa. Era la terza persona al mondo che avesse vinto due volte il premio Nobel e la prima a cui era stato assegnato, non diviso con altri, per la scienza. Non si poteva lamentare. E poi, anche se non era ricco, non lo si poteva neppure dire povero. Tuttavia, non aveva l'aria di un uomo soddisfatto. Probabilmente non era soltanto la ricchezza di Bloom che lo irritava, ma la popolarità di cui l'altro godeva in tutto il mondo. Ovunque andasse, Bloom era accolto come una celebrità, mentre lui, all'infuori che nei raduni scientifici e nei circoli universitari, era un illustre sconosciuto. Non so fino a che punto quello che stavo pensando mi si leggesse negli occhi. Il fatto è che Priss si affrettò a soggiungere. Comunque siamo amici, sapete. Giochiamo assieme a biliardo un paio di volte alla settimana e io lo batto sempre. Non mi tardai a pubblicare quella dichiarazione. Ne controllai, come dirò poi, la veridicità con Bloom, il quale fece una lunga contradichiarazione che cominciava così. Lui mi batte al biliardo, quel somaro, e proseguiva in un continuo crescendo, spostandosi su un tono sempre più personale. A dire il vero, nessuno dei due era un pivello al gioco del biliardo. Una volta che li osservai giocare per un po', dopo la dichiarazione e la contradichiarazione, constatai che entrambi maneggiavano le stecche con destrezza da professionisti. E quello che più conta, giocavano con accanimento feroce. Non c'era ombra di amicizia nella partita a cui io ebbi modo di assistere. Credete che Bloom riuscirà a costruire un congegno antigravità? Chiesi a Priss. Vorreste che mi compromettessi con una dichiarazione, vero? Riflettiamo un po', giovanotto. Prima di tutto, che cosa intendiamo per antigravità? Il nostro concetto di gravità è costruito sulla teoria generale della relatività di Einstein, la quale è ormai vecchia di un secolo e mezzo, ma che tuttavia rimane, entro i suoi limiti, sempre valida. Possiamo raffigurarcela? Ascoltai educatamente. Avevo già sentito Priss sviscerare l'argomento in un'altra occasione, ma se volevo cavargli fuori qualcosa, dovevo lasciarlo ragionare a modo suo. Possiamo raffigurarcela, riprese, immaginando l'universo come un foglio di gomma non lacerabile, un foglio piatto, sottile, ultraflessibile. Se ci raffiguriamo la massa associata al peso, come è appunto sulla superficie della Terra, dobbiamo aspettarci che una massa che appoggi sul foglio di gomma provochi un avvallamento proporzionale alle sue dimensioni. Nell'universo reale, continuò, esistono masse di ogni sorta e perciò il nostro lenzuolo di gomma va rappresentato come cosparso da depressioni. Qualsiasi oggetto che rotoli sul lenzuolo sprofonderebbe e quindi uscirebbe dalle cavità che gli capitasse di incontrare lungo il suo percorso e così facendo virerebbe cambiando direzione. Noi interpretiamo questo virare e questo cambiare direzione come una dimostrazione dell'esistenza di una forza di gravità. Se l'oggetto in movimento si avvicina sufficientemente al centro dell'avvallamento e si muove con sufficiente lentezza, rimane intrappolato e continua a girare rapidamente tutto attorno all'avvallamento. In assenza di attrito continuerà a turbinare per sempre. In altre parole, quello che Isaac Newton interpretò come forza fu interpretato da Albert Einstein come una deformazione geometrica. A questo punto si fermò. Aveva parlato più rapidamente del solito perché ripeteva cose che aveva già detto un'infinità di volte, ma ora cominciava ad affrontare argomenti nuovi. Perciò, cercando di produrre l'antigravità, disse, cerchiamo di alterare la geometria dell'universo, cioè per tornare alla nostra metafora cerchiamo di tendere e raddrizzare il foglio di gomma pieno di avvallamenti. Immaginiamo di portarci sotto la massa che ha prodotto la depressione e di spingerla verso l'alto, sostenendola in modo da impedirle di produrla. Se in questo modo riusciamo a rendere piano il foglio di gomma, creiamo un universo, o almeno una parte di universo, privo di gravità. Ma per ottenere questo, tuttavia, abbiamo bisogno di una massa equivalente a quella che causa l'avvallamento. Per produrre l'antigravità sulla Terra in questo modo dovremmo servirci di una massa uguale a quella della Terra e tenerla in equilibrio sopra la nostra testa, per così dire. Lo interruppi, ma la vostra teoria dei due campi... Esattamente. La relatività generale non spiega il campo gravitazionale e il campo elettromagnetico mediante un solo sistema di equazioni. Einstein passò metà della sua vita a cercare quell'unico sistema e ottenere quindi una teoria del campo unificato, e non riuscì. Tutti quelli che seguirono Einstein fallirono. Io, invece, cominciai con l'ipotesi dell'esistenza di due campi che non potevano venire unificati e ne dedussi le conseguenze, che posso spiegare parzialmente, con l'esempio del foglio di gomma. Eravamo arrivati a un punto che non mi sembrava di aver mai sentito trattare. Come sarebbe a dire? Chiesi. Supponiamo che, invece di cercare di sollevare la massa che causa l'avvallamento, noi tentassimo di irrobustire il foglio di gomma rendendolo meno elastico. Esso si contrarrebbe e, almeno in una piccola area, diventerebbe più piano. La gravità si indebolirebbe e così pure la massa, perché le due cose sono essenzialmente lo stesso fenomeno. Se potessimo rendere completamente piano il foglio di gomma, sia la gravità sia la massa scomparirebbero contemporaneamente. In condizioni adatte, si potrebbe contrapporre il campo magnetico al campo gravitazionale per irrigidire il tessuto pieno di depressioni che costituisce l'universo. Il campo elettromagnetico è straordinariamente più forte di quello gravitazionale, perciò il primo potrebbe sopraffare il secondo. Ma avete parlato di condizioni adatte, professore, di sì o perplesso. Si possono ottenere? È proprio quello che ancora non so, disse Pris pensoso. Se l'universo fosse davvero un foglio di gomma, la sua rigidità dovrebbe raggiungere un valore infinito per potersi mantenere completamente piano sotto una massa. Se le cose stanno così, anche nell'universo reale, sarebbe necessario un campo elettromagnetico infinitamente intenso e ciò significherebbe che l'antigravità è impossibile. Ma Bloom dice... già. Probabilmente Bloom pensa che un campo finito sia sufficiente se può essere debitamente applicato. Tuttavia, per quanto lui sia ingegnoso, e qui Pris ebbe un sorriso forzato, non è il caso di considerarlo infallibile. La sua comprensione della teoria lascia molto a desiderare. Lo sapete che... che non è mai riuscito a prendere una laurea? Stavo per rispondere di sì, tanto lo sapevano tutti, ma nella voce del professore c'era una sfumatura che mi colpì e mi fece alzare gli occhi, appena in tempo per scorgere una scintilla di malizia nel suo sguardo, come se ci godesse un mondo a propagare la notizia. Così mi limitai a fare un cenno del capo, come se stessi mettendo in serbo l'informazione per servirmene in seguito. Allora, secondo voi, professore, Bloom probabilmente avrebbe torto e sarebbe impossibile ottenere l'antigravità. Pris ci pensò su un po' e infine a noi. Il campo gravitazionale, disse, può certamente essere indebolito, ma se per antigravità intendiamo un vero e proprio campo a gravità zero, cioè assenza assoluta di gravità su un volume di spazio significativo, allora temo proprio che ottenere l'antigravità sia impossibile. Che che ne dica Bloom? Avevo ottenuto quello che volevo. Nei tre mesi seguenti non riuscì nessun modo a intervistare Bloom e quando finalmente si decise a ricevermi era di pessimo umore. Era già montato su tutte le furie quando gli era giunta all'orecchio la notizia della dichiarazione fatta da Pris e aveva comunicato che il professore sarebbe stato invitato alla presentazione finale del congegno antigravità non appena questo fosse stato pronto. Precisò, anche, che avrebbe pregato Pris di prendere parte alla dimostrazione. Alcuni reporters, fra i quali non c'ero io purtroppo, erano riusciti ad abbordarlo tra un appuntamento e l'altro e gli avevano chiesto di fornire ulteriori spiegazioni al riguardo. Aveva risposto così. Presto o tardi realizzerò questa macchina. Presto, forse. Voi potrete intervenire alla dimostrazione e con voi tutti i rappresentanti della stampa che lo desiderino. Anche il professor Pris potrà venire, rappresenterà la scienza teorica e quando avrò dimostrato l'antigravità potrà adattare la sua teoria per spiegarla. Sono certo che saprà fare gli adattamenti in modo magistrale e dimostrerà esattamente il perché io non potevo fallire. Potrebbe anche farlo adesso e risparmiare tempo, ma credo che non ne abbia l'intenzione. Tutto era stato detto con la massima cortesia, ma si sentiva chiaramente lo scherno dietro il rapido flusso di parole. Malgrado tutto, lui aveva continuato a giocare a biliardo con Pris e quando i due si incontravano si comportavano con la massima correttezza. Si poteva avere un'idea dei progressi di Bloom facendo attenzione al rispettivo atteggiamento dei due uomini nei riguardi della stampa. Bloom diventava stringato e perfino mordace, mentre Pris appariva sempre più di buon umore. Quando finalmente la mia richiesta di intervistare Bloom fu accettata, mi chiesi se per caso i suoi sforzi fossero stati coronati da successo e mi trovai a sognare ad occhi aperti che si fosse deciso di dare la notizia proprio a me. Ma le cose non andarono così. Mi ricevette nell'ufficio della Bloom Enterprise a New York. Era un posto meraviglioso, molto lontano dalle zone abitate, funzionalmente attrezzato e che comprendeva un'area vasta quanto quella necessaria a uno stabilimento industriale di dimensioni notevoli. Lo stesso Edison, all'apice della sua carriera, non aveva goduto il successo fenomenale che rideva a Bloom. Ma Bloom, come ho detto, non era di buon umore. Arrivò con un ritardo di dieci minuti, camminando a lunghi passi, passò ostiziosamente davanti alla scrivania della segretaria facendo un asciutto cenno del capo nella mia direzione. Portava un camice da laboratorio sbottonato. Poi si lasciò cadere sul suo poltrone e disse «Mi spiace di avervi fatto aspettare, ma sono più occupato di quello che prevedevo». Bloom era un attore nato e sapeva come comportarsi con la stampa, ma io ebbi la sensazione che in quel momento facesse una gran fatica a trattarmi educatamente. «Mi è stato detto, signore, che i vostri esperimenti più recenti non hanno avuto successo», cominciai. «E chi ve l'ha detto? È una voce generale, signor Bloom». «No, giovanotto, non è affatto così. La gente non può sapere quello che accade nel mio laboratorio e nelle mie officine. Voi state riferendo le opinioni del professore, eh?» «No, io sono...» «Ma certo, non siete voi il tipo a cui ha dichiarato che l'antigravità è impossibile?» «Veramente no, l'ha detto così chiaro e tondo. Lui non dice mai niente è chiaro e tondo, ma è già abbastanza chiaro per lui. Comunque, quando avrò finito, l'universo a foglio di gomma sarà teso come il piano della mia scrivania». «Volete dire che state facendo progressi?» «Lo sapete bene», rispose stizzito. «O almeno dovreste saperlo. Non eravate presente alla dimostrazione la settimana scorsa?» «Sì, certo». Probabilmente Bloom si trovava nei guai, altrimenti non avrebbe mai accennato a quell'esperimento. Aveva avuto esito positivo, ma non si trattava certo di niente di straordinario. Era stata prodotta una zona di minore gravità tra i due poli di un magnete. L'esperimento era stato condotto con molta abilità. Era stato usato un equilibratore a effetto Mossbauer per sondare lo spazio tra i due poli. Per chi non avesse mai visto un apparecchio del genere in azione, preciserò che consiste fondamentalmente in uno stretto fascio monocromatico di raggi gamma lanciato attraverso il campo di bassa gravità. I raggi gamma cambiano lunghezza d'onda leggermente, ma misurabilmente, sotto l'influenza del campo gravitazionale. E se qualcosa altera l'intensità del campo di cambiamento di lunghezza d'onda, si sposta in modo corrispondente. Era un metodo estremamente delicato di sondare un campo gravitazionale e funzionò benissimo. Senza dubbio, Bloom era riuscito ad abbassare la gravità. Il guaio è che quell'esperimento era già stato fatto da altri. Bloom, a dire il vero, si era servito di circuiti che avevano facilitato grandemente il raggiungimento dell'effetto, usando un sistema tipicamente ingegnoso e debitamente brevettato e sosteneva che attraverso questo metodo l'antigravità sarebbe diventata non soltanto una curiosità scientifica, ma qualcosa che poteva avere un'importanza pratica e servire ad uso industriale. Poteva darsi, ma era un lavoro incompleto e lui, di solito, non faceva pubblicità all'incompletezza. Non lo avrebbe fatto neppure quella volta se non avesse avuto qualcosa da rivelare. Se non sbaglio, dissi, in quella dimostrazione preliminare avete ottenuto 0,82 g, ma in Brasile l'anno scorso si è avuto un risultato migliore. E con questo? Calcolate un po' l'energia immessa in Brasile e quella immessa qui e poi ditemi la differenza nella diminuzione della gravità per kilowattora. Rimarrete sorpreso. Ma l'importante è sapere se potete raggiungere zero g, ovvero la gravità zero. È questo che il professor Priss ritiene impossibile. Tutti sono d'accordo nell'affermare che diminuire la gravità non è una cosa molto difficile. Il pugno di Bloom si contrasse. Ebbi la sensazione che un esperimento di importanza capitale fosse fallito quel giorno e che lui fosse terribilmente contrariato. Non gli andava di essere messo nel sacco dall'universo. I teorici mi fanno vomitare, dichiarò con voce sorda, come se finalmente avesse deciso di sfogarsi e di dire quello che pensava, infischiandosene di quello che ne avrebbero pensato gli altri. Priss ha vinto due volte il premio Nobel per aver buttato giù qualche equazione. Ma che cosa è riuscita a concludere con le sue equazioni? Un bel niente. Io invece ne ho ricavato qualcosa e continuerò così che a lui piaccia o no. Sono io l'uomo che la gente ricorderà. Sono io quello che ha la vera fama. Che si tenga pure il suo titolo, i suoi premi e le lodi degli altri scienziati. Ve lo dico io che cosa lo rende tanto astioso. Semplicemente l'invidia. Si rode dalla rabbia perché io ho ottenuto il successo per aver fatto, mentre lui lo vorrebbe per aver pensato. Una volta gliel'ho anche detto, sapete. Noi spesso giochiamo a biliardo insieme. Fu a questo punto che citai la dichiarazione di Priss circa il biliardo e ascoltai la contradichiarazione di Bloom. Non le ho mai pubblicate, né l'una né l'altra. Tratta di banalità. Giochiamo a biliardo fra noi, disse Bloom, quando si fu un po' calmato. E io ho vinto il mio bravo numero di partite. Siamo abbastanza amici, nonostante tutto. Eravamo compagni di scuola. Non so come si è riuscito a prendersi la laurea. Naturalmente si è laureato bene in fisica e in matematica, ma per quanto riguarda le materie classiche è sempre passato per il buco della serratura. Lo promuovevano per compassione, credo. Voi non vi siete laureato, signor Bloom, vero? Dissi io per pura cattiveria. Mi divertivo un mondo al suo sfogo. Ho piantato lì per mettermi negli affari. I miei voti nei tre anni che ho frequentato l'università erano discreti. Non ficcatevi in testa storie, siamo intesi? Quando Priss si laureò, io stavo già mettendomi da parte il mio secondo milione di dollari. Visibilmente seccato, continuò. Comunque, un giorno che stavamo giocando, gli dissi, Jim, l'uomo medio non capirà mai perché i premi nobelli prendi tu, mentre i risultati li ottengo io. Che te ne fai di due premi? Dammene uno. Lui ci meditò sopra un po', poi disse con voce sciocca e sua dente, tu hai due miliardi, Ed, dammene uno. Quello che vuole dunque è il denaro. A voi, naturalmente, non spiace che lui si tenga agli onori. Per un attimo mi sembrò che stesse per mandarmi via a pedate, ma si trattenne. Si mise a ridere, invece, e con la mano fece l'atto di cancellare qualcosa da una lavagna invisibile. Beh, dimentichiamo tutto questo, è acqua passata. Volete una dichiarazione? E va bene. Le cose non sono andate come avrebbero dovuto finora, ma credo di aver capito cos'è che non va. E se non è così, lo capirò presto. Dite pure che io ho dichiarato che non è necessaria un'intensità elettromagnetica infinita. Riusciremo senz'altro a spianare il foglio di gomma e a ottenere gravità zero. E quando ce l'avremo fatta, daremo la più portentosa dimostrazione che si sia mai vista. Esclusivamente per la stampa e per pressa. E voi sarete invitato. E potete anche dire che non ci vorrà molto tempo. D'accordo? D'accordo. Dopo di allora, vidi ancora ciascuno dei due soci antagonisti un paio di volte. Riuscì perfino a sorprenderli insieme mentre erano intenti a una partita di biliardo. Come ho già detto, tutti e due erano in gamba. Tuttavia, l'invito a partecipare alla dimostrazione non arrivò presto come attendevo. Giunse quasi un anno dopo la dichiarazione di Bloom. Ma forse non ci si poteva aspettare una maggiore rapidità. Ricevetti un cartoncino stampato, con l'avviso che prima sarebbe stato offerto un cocktail. Bloom non faceva mai le cose a metà e voleva trovarsi intorno a un gruppo di reporters soddisfatti e ben disposti. Era stato sistemato anche il macchinario per una ripresa televisiva tridimensionale. Bloom era evidentemente sicuro di sé, perlomeno abbastanza da lasciarsi puntare addosso gli occhi di tutto il pianeta. Telefonai al professor Priss per assicurarmi che anche lui fosse stato invitato. Era proprio così. Avete intenzione di intervenire, professore? Ci fu un lungo silenzio. La faccia del professore, sullo schermo dell'apparecchio telefonico, era un poema di perplessità e di riluttanza. Infine venne la risposta. Una dimostrazione simile non si addice alla serietà dell'argomento scientifico in questione. Perciò non mi va affatto l'idea di incoraggiare cose del genere. Temevo che se la cavasse con questo e che, se lui non fosse stato là, la situazione avrebbe perso gran parte della sua drammaticità. Ma forse proprio in quel momento decise che non gli andava di fare la figura del vigliacco davanti al mondo intero e con evidente disgusto disse «Naturalmente Ed Bloom non è uno scienziato vero e deve avere la sua grande giornata. Quindi ci andrò». «Credete che il signor Bloom sia in grado di ottenere la gravità zero, professore?» «Il signor Bloom mi ha mandato una copia dello schema del suo dispositivo e non ne sono sicuro. Può darsi che ce la faccia se dice che può farcela naturalmente e qui ci fu un'altra lunga pausa. Sono curioso di vedere». E anch'io lo ero e con me molti altri. La messa in scena era impeccabile. Un intero piano dell'edificio principale della Bloom Enterprise che sorgeva sulla sommità della collina era stato liberato. C'era il cocktail promesso, uno splendido spiegamento di antipasti, musica in sordina, luci smorzate e un Edward Bloom giovialissimo e accuratamente vestito che si comportava da prefetto anfitrione, mentre camerieri educati e discreti si affaccendavano attorno. Tutto uno show di cordialità e di stupefacente sicurezza. James Priss era in ritardo e scorsi Bloom che guardava ai margini della folla con un certo disappunto. Poi Priss arrivò, circondato da un'aura scialba e incolore quasi palpabile, per niente intaccata dalla vivacità e dallo splendore dell'ambiente. Bloom lo vide e istantaneamente la sua faccia si illuminò. Si precipitò attraverso il salone, afferrò per la mano Priss e se lo tirò dietro fino al bar. «Jim, come sono felice di vederti! Cosa vuoi prendere? Diamine, vecchio mio, avrei rinviato tutto se tu non fossi venuto. Non si può fare questa dimostrazione senza l'astro principale». Torse la mano di Priss e soggiunse. «Il merito è della tua teoria, sai. Noi, miseri mortali, non possiamo niente se voi, esigua elite di privilegiati, non ci indicate la via». Era tutto spumeggiante e complimentoso, perché ora poteva permetterselo. Stava ingrassando Priss prima di tirargli il collo. Il professore cercò di rifiutare il liquore brontolando qualcosa, ma prima che ci fosse riuscito si trovò il bicchiere in mano. Bloom si era messo a parlare con voce possente. «Signori, un momento di silenzio, per favore. Brindiamo al professor Priss, la mente più eletta dopo Einstein, due volte premiato con il premio Nobel, padre della teoria dei due campi e ispiratore della dimostrazione a cui stiamo per assistere. Anche se è convinto che non funzionerà e ha il coraggio di affermarlo pubblicamente». Ci fu uno scoppio di risate soffocate che subito si calmò e Priss diventò più torvo che mai. «Ma ora che il professor Priss è arrivato e che abbiamo fatto il nostro brindisi», disse Bloom, «procediamo. Seguitemi, signori». L'esperimento si sarebbe tenuto in un ambiente anche più studiato di quello in cui era stata offerta la dimostrazione precedente. Si fecero salire all'ultimo piano dell'edificio, tutto era pronto. Sarebbero stati impiegati i magneti, più piccoli, ma, per quanto ne sapevo io, era stato installato lo stesso equilibratore Mossbauer. Tuttavia c'era qualcosa di nuovo che stupì gli invitati e ne attirò l'attenzione. Un tavolo da biliardo, sistemato orizzontalmente tra i due poli del magnete. Al centro del tavolo c'era un foro rotondo del diametro di circa 30 centimetri. Era evidente che il campo di gravità zero, se mai fosse stato ottenuto, si sarebbe prodotto attraverso quel foro. Sembrava che l'intera dimostrazione fosse stata progettata in modo surrealistico per sottolineare la vittoria di Bloom su Priss. Doveva essere una nuova versione della loro eterna partita al biliardo e Bloom stava per vincerla. Non so se anche gli altri reporters avessero preso la cosa in questo senso, ma Priss credo di sì. Mi girai a guardarlo e vidi che si stringeva ancora il bicchiere e che gli avevano messo in mano per forza. Benché in genere bevesse di rado, lo vidi portare il bicchiere alle labbra e vuotarlo in due sorsi. Fissò la palla da biliardo e non c'era bisogno di essere telepatici per accorgersi che la considerava alla stregua di una vernacchia sotto il naso. Bloom ci condusse verso i venti sedili che circondavano tre lati del tavolo, lasciando il quarto libero come area di lavoro. E anche Priss fu deferentemente accompagnato al suo posto, da cui godeva la vista migliore. Il professore lanciò una rapida occhiata alle telecamere che erano entrate in azione. Forse ebbe la tentazione di andarsene, ma decise che non era possibile farlo così, sotto gli occhi di tutti i telespettatori del mondo. La dimostrazione in sé era semplice. Il risultato era quello che contava. C'erano contatori con quadranti perfettamente visibili che misuravano il consumo di energia. Ce n'erano altri che trasferivano le letture dell'equilibratore Mosbauer in una posizione e in dimensioni che li rendevano visibili a tutti. Ogni cosa era stata predisposta in modo da facilitare la ripresa televisiva. Bloom spiegava ogni fase dell'esperimento con disinvolta cordialità, un paio di volte si fermò, voltandosi verso Pris, quasi in attesa di una conferma. Comunque non lo fece tanto spesso da rendere la cosa evidente. Lo fece solo quel che bastava per rigirare la vittima sullo spiedo del tormento. Dal mio posto vedevo benissimo il professore. Di là dal tavolo, aveva l'aria di uno che soffre le pene dell'inferno. Come tutti sanno, l'esperimento riuscì. L'equilibratore mostrò che l'intensità gravitazionale diminuiva stabilmente, mentre il campo elettromagnetico si intensificava. Quando si abbassò al di sotto di 0,052 g, indicato sul quadrante da una linea rossa, scoppiarono gli applausi. Certamente voi sapete, disse Bloom sicuro di sé, che 0,2 g rappresenta il valore più basso finora raggiunto nell'intensità gravitazionale. Noi ora siamo al di sotto di esso, con un consumo di elettricità più del 10% inferiore a quello del record precedente. Ma non è ancora finita. Bloom, e secondo me lo fece deliberatamente, per aumentare la suspense, rallentò le ultime fasi dell'abbassamento del campo, lasciando che le telecamere scorazzassero avanti e indietro e inquadrassero il foro al centro del tavolo da biliardo e il quadrante su cui si scorgeva la lettura dell'equilibratore. A un tratto disse, signori, troverete un paio di grossi occhiali scuri nella tasca al lato di ciascun sedile. Vi prego di metterli. Presto il campo di gravità zero sarà stabilito e irradierà una luce ricca di ultravioletti. Lui diede per primo l'esempio e si sentì nell'aria il fruscio provocato dagli spettatori che lo imitavano. Poi nessuno fiatò più fino all'ultimo minuto, quando l'indice del quadrante segnò zero. Proprio nello stesso istante si formò all'improvviso un cilindro di luce da un polo all'altro attraverso il foro del tavolo da biliardo. Allora venti persone tirarono al fiato tutte insieme. Qualcuno gridò, signor Bloom, cos'è questa luce? È caratteristica del campo di gravità zero, disse lui con voce in colore, ma quella non era una risposta. Ora i reporters erano tutti in piedi, pigiati attorno all'orlo del tavolo. Bloom li fece allontanare con un cenno della mano. Per favore, signori, fate largo. Soltanto Pris, era rimasto seduto al suo posto, sembrava perduto in una profonda meditazione e sono certo che gli occhiali scuri schermavano un'espressione rivelatrice di quello che sarebbe accaduto in seguito. Non vidi i suoi occhi, era impossibile. Così né io né le altre persone presenti riuscimmo a indovinare, sia pure lontanamente, quello che stava succedendo nel suo cervello. Beh, forse non avremmo indovinato niente anche senza gli occhiali, chissà. Bloom alzò di nuovo la voce. Per favore, l'esperimento non è ancora terminato. Finora ho soltanto ripetuto quello che era in parte già stato fatto. Ho prodotto un campo di gravità zero e ho dimostrato che questo può essere realizzato. Ma voglio anche dimostrare che cosa il campo può fare. Ciò che stiamo per vedere non l'ha mai visto nessuno, neppure io. Non ho ancora compiuto esperimenti in questo senso, anche se ne avevo il desiderio. Mi sembrava che il professor Pris meritasse l'onore di... Pris alzò gli occhi bruscamente. Cosa? Cosa? Professore, disse Bloom con un ampio sorriso, vorrei che foste voi a compiere il primo esperimento riguardante l'influenza reciproca di un oggetto solido con un campo di gravità zero. Notate che il campo è stato formato al centro del tavolo da biliardo. Il mondo intero conosce la vostra fenomenale abilità nel gioco del biliardo, professore. Si tratta di un talento inferiore soltanto alla vostra stupefacente attitudine alla fisica teorica. Volete ora mandare una palla da biliardo dentro il campo di gravità zero? Dopodiché tese impazientemente una palla e una stecca al professore. Pris, sempre con gli occhiali, le fissò e, molto lentamente, quasi con riluttanza, si sporse per afferrarle. Chissà che cosa c'era nei suoi occhi. Forse Bloom aveva deciso di giocargli quel tiro mancino durante l'esperimento per vendicarsi della famosa dichiarazione sulle loro partite al biliardo. Sono responsabile anch'io, in certo qual modo, di quanto è successo. Su, alzatevi, professore, disse Bloom, e lasciatemi venire al vostro posto. Da questo momento tocca a voi. Avanti. Poi Bloom sedette e ricominciò a parlare, mentre la sua voce possente ricordava quella di un organo. Quando il professore avrà mandato la palla nella zona di gravità zero, essa non subirà più l'influenza del campo gravitazionale della Terra. Mentre la Terra continuerà a ruotare sul proprio asse e a viaggiare intorno al Sole, la palla rimarrà effettivamente immobile. Secondo i miei calcoli, a questa latitudine e a quest'ora del giorno, il nostro pianeta nei suoi movimenti dovrebbe abbassarsi. Noi ci sposteremo con lui, ma la palla rimarrà immobile, anche se ci sembrerà che si alzi verso l'alto allontanandosi da Terra. Guardate. Chris stava in piedi accanto al tavolo, come paralizzato. Sorpresa? Stupore? Non so. Non lo saprò mai. Fece un gesto, come per interrompere il discorsetto di Bloom, ma non disse nulla. Si voltò verso il tavolo da biliardo e gli lanciò un'occhiata. Poi guardò ancora il suo avversario. I reporters erano tutti in piedi, addossati uno all'altro, per non perdere nessun particolare. Soltanto Bloom rimase seduto, sorridente e isolato. Naturalmente lui non guardava il tavolo, né la palla, né il campo di gravità zero. Per quanto potevo vedere io, i suoi occhi, da dietro gli occhiali, fissavano soltanto Chris. Il professore si girò di nuovo verso il tavolo e mise in posizione la palla. Per mezzo suo, tra pochi minuti, Bloom avrebbe ottenuto il trionfo finale in modo spettacolare, mentre lui, Chris, che aveva dichiarato che l'esperimento non poteva riuscire, sarebbe stato deriso in eterno. Forse pensò che non c'erano vie d'uscita, o forse, con un colpo secco, fece partire la palla. Questa avanzava lentamente e tutti la seguivano con gli occhi. Colpì il bordo del tavolo e rimbalzò. Avanzava sempre più piano, come se ora fosse Chris a voler aumentare la suspense per rendere il trionfo di Bloom anche più evidente. Ero in un ottimo punto d'osservazione, sul lato del tavolo opposto a quello contro cui si trovava Chris. Vidi la palla dirigersi verso il campo di gravità zero e, al di là di quello, scorsi le parti della figura di Bloom che non erano nascoste dal cilindro di luce. La palla si avvicinò alla zona di gravità zero. Sembrò restare sospesa sull'orlo un attimo. Poi, con un baleno di luce, un tuono e un improvviso odore di stoffa bruciata, scomparve. Urlammo. Tutti quanti urlarono. Quando rividi la scena in televisione, qualche tempo dopo, individuai me stesso in quella indescrivibile confusione durata quindici secondi, ma non posso dire di aver riconosciuto la mia faccia. Quindici secondi. Infine scorgemmo Bloom. Era seduto nella sua sedia, con il braccio ancora piegato, ma un foro del diametro di una palla da biliardo gli attraversava il polso sinistro, il torace e la schiena. I due terzi del suo cuore, come si seppe dopo l'autopsia, erano stati nettamente asportati. Fu fermata la macchina, venne chiamata la polizia e Pris fu portato via in preda a uno spaventoso collasso. Io non stavo molto meglio di lui, a dire il vero, e se qualche reporter presente ha dichiarato poi di essere rimasto padrone di sé, consideratelo pure un bugiardo matricolato. Passarono alcuni mesi prima che rivedessi Pris. Era un po' dimagrito, ma sembrava in buona salute. Le sue guance erano colorite e aveva un'aria decisa che non gli conoscevo prima, e poi era vestito molto meglio del solito. Ora so che cosa è successo, mi disse. Se avessi avuto il tempo di pensare, me ne sarei accorto anche allora, ma, come sapete, i miei processi mentali sono lenti e il povero Ed Bloom dirigeva il suo show con tanta abilità che riuscì a trascinarmi. Naturalmente poi ho cercato di riparare al danno che ho involontariamente causato. «Non potete mica far risuscitare Bloom», disse Asciutto. «Questo no», disse lui altrettanto Asciutto, «ma rimane la Bloom Enterprise a cui pensare». «Ciò che è accaduto durante la dimostrazione al cospetto del mondo intero ha fatto una pessima pubblicità alla Gravità Zero, ed è importante che il malinteso sia chiarito. Ecco perché vi ho pregato di venire». «Sì?» «Se fossi stato in grado di pensare più rapidamente, avrei subito capito che Ed stava dicendo delle gran sciocchezze quando affermò che la palla da biliardo si sarebbe sollevata lentamente nel campo. Non poteva essere così. Se Bloom non avesse disprezzato tanto la teoria, se non fosse stato tutto intento a vantarsi della propria ignoranza, se ne sarebbe accorto anche lui. Dopotutto il moto della Terra non è l'unico, giovanotto. Anche il Sole ruota in una vasta orbita attorno al centro galattico della Via Lattea, e anche la galassia si muove, sia pure in un modo non ancora ben definito. Una palla da biliardo in Gravità Zero sarebbe svincolata dall'influenza di tutti questi movimenti e perciò cadrebbe all'improvviso in uno stato di assoluto riposo, mentre il riposo assoluto non esiste. Ries scosse la testa lentamente e continuò. Nel caso di Ed, il guaio è che lui, probabilmente, pensava al genere di Gravità Zero che si determina nelle astronavi in caduta libera quando la gente fluttuò a mezz'aria. Si aspettava che anche la palla fluttuasse a mezz'aria. Tuttavia, in una nave spaziale, la Gravità Zero non è il risultato di un'assenza di gravitazione, rispondendo alla Gravità esattamente nello stesso modo, cosicché ciascuno dei due è immobile rispetto all'altro. Nel campo di Gravità Zero prodotto da Ed, si verificava un appiattimento dell'universo foglio di gomma, il che significa un'effettiva perdita di massa. Ogni cosa presente in quel campo, comprese le molecole d'aria tirate dentro di esso e la palla da biliardo che ci avevo mandato io, restava completamente priva di massa per tutto il tempo della sua permanenza là. Un oggetto completamente privo di massa può muoversi soltanto in un modo. Tacque, come per provocare una domanda, e io chiesi, quale? Alla velocità della luce. Qualsiasi oggetto senza massa, come per esempio un neutrino o un fotone, deve viaggiare alla velocità della luce per tutto il tempo di vita. Infatti, la luce si muove a quella velocità solo perché è composta di fotoni. Non appena la palla da biliardo entrò nel campo di Gravità Zero e perse la sua massa, assunse la velocità della luce e partì. Scossi la testa. Ma non ha riacquistato la massa appena fuori? Certamente. E subito cominciò ad essere influenzata dal campo gravitazionale e a rallentare per via dell'attrito con l'aria e la superficie del tavolo. Ma pensate un po' quale attrito sarebbe stato necessario per far rallentare un oggetto con la massa di una pallina e che va alla velocità della luce. Attraversò l'atmosfera per centinaia di chilometri in un millesimo di secondo, rallentando solo pochi chilometri al secondo. Pochi chilometri su 300.000. Strada facendo, scheggiò la superficie del tavolo. Trapassò il povero Ed e il vetro della finestra, ritagliandovi un cerchio netto, perché la sua velocità era tale che neppure una sostanza fragile come il vetro fece in tempo a incrinarsi. Per fortuna eravamo all'ultimo piano dell'edificio e in una zona della periferia. Se fossimo stati in città avrebbe potuto uccidere parecchie persone. Ora quella palla è lontana nello spazio, molto più in là del nostro sistema solare, e continuerà a viaggiare così in eterno, su per giù alla velocità della luce, finché non le capiterà di incontrare un oggetto abbastanza grande da fermarla, e allora formerà un notevole cratere. Ci pensai su, ma non mi sentivo soddisfatto. Com'è possibile? Chiesi. La palla da biliardo è entrata lentissimamente nella zona di gravità zero. L'ho vista io. E voi dite che ne è ripartita con un'incredibile quantità di energia cinetica. Da dove è venuta quell'energia? Prince si strinse nelle spalle. Da nessuna parte. La legge della conservazione dell'energia è valida soltanto nelle condizioni in cui anche la relatività generale è valida, e cioè in un universo simile a un foglio di gomma pieno di avvallamenti. Nel punto in cui la depressione viene eliminata, la relatività generale non vale più, e l'energia può essere creata e distrutta liberamente. Questo spiega le radiazioni luminose lungo la superficie cilindrica della zona di gravità zero. Come ricorderete, Blum non fu in grado di spiegare quella luminosità. Se solo avesse fatto altri esperimenti, se non fosse stato così scioccamente impaziente di mettere su il suo spettacolo, che cosa spiega la luminosità, professore? Le molecole d'aria presenti nel campo. Ciascuna di queste assume la velocità della luce e avanza frantumandosi. Poiché sono solo molecole, non palle da biliardo, vengono fermate. Ma l'energia cinetica del loro movimento viene convertita in radiazione energetica. Il fenomeno è continuo perché entrano continuamente nuove molecole che raggiungono la velocità della luce e si frantumano. Allora l'energia viene creata in continuazione. Esattamente. Proprio questo dobbiamo chiarire al pubblico. L'antigravità non è soprattutto qualcosa che serve a sollevare le navi spaziali o a rivoluzionare il movimento meccanico, ma piuttosto la sorgente di una scorta infinita di energia disponibile, perché parte dell'energia prodotta può essere deviata per mantenere il campo che appiattisce una certa zona dell'universo. Ed Blum ha inventato, senza saperlo, non soltanto l'antigravità, ma la prima macchina del moto perpetuo di prima classe, che crea l'energia dal nulla. Io dissi lentamente, quella palla da biliardo avrebbe potuto uccidere chiunque dei presenti, vero? Sarebbe potuta uscire in una direzione qualsiasi. Beh, i fotoni privi di massa emergono da qualsiasi fonte luminosa alla velocità della luce da tutte le parti. Anche le molecole d'aria, senza massa, escono dal campo di gravità zero in tutte le direzioni, e per questa ragione il cilindro è luminoso. Ma la palla da biliardo era solo un oggetto. Sarebbe potuta uscire in una direzione qualsiasi, ma in una soltanto, scelta a caso. E fu per caso quella in cui si trovava Ed. Si sa poi come sono andate le cose. L'umanità è riuscita a ottenere l'energia libera, e così il mondo è diventato quello che è. Al professor Priss, il consiglio di amministrazione della Bloom Enterprise, ha affidato la valorizzazione della scoperta. E ora anche lui è ricco e famoso come Ed Bloom. E in più, ha sempre i due premi Nobel. Soltanto, io continuo a pensarci. I fotoni escono da una sorgente di luce in ogni direzione, in quanto sono creati al momento, e non c'è ragione perché vadano da una parte piuttosto che dall'altra. Le molecole d'aria escono da un campo di gravità zero in tutte le direzioni, perché da tutte le direzioni sono entrate. Ma una palla da biliardo, che entra nel campo di gravità zero da una particolare direzione, esce nella stessa o in una qualsiasi? Ho cercato di informarmi con molta delicatezza, ma sembra che i fisici teorici non lo sappiano con sicurezza e non mi risulta che la Bloom Enterprise, l'unica organizzazione che si occupa della gravità zero, abbia mai fatto esperimenti in proposito. Un membro di detta organizzazione mi ha detto che il principio di indeterminazione garantisce l'uscita a caso di un oggetto entrato in una direzione qualsiasi. Ma allora perché non tentano l'esperimento? Potrebbe darsi che... Potrebbe darsi che una volta tanto la mente di Pris avesse funzionato rapidamente? Che, esasperata dall'affronto di Bloom, avesse improvvisamente visto chiaro? Pris aveva notato la radiazione che circondava il campo di gravità zero. Poteva averne scoperta la causa ed essere certo che tutto quanto entrava nel campo avrebbe assunto la velocità della luce. E allora perché non aveva detto niente? Una cosa è certa. Quando il professore giocava al biliardo non lasciava mai niente al caso. Era un esperto e le palle facevano esattamente quello che voleva lui. Io, che me ne stavo là attento durante l'esperimento, lo vidi guardare Bloom e poi il tavolo, come se stesse calcolando gli angoli. Lo vidi colpire la palla, che poi rimbalzò ed entrò nel campo di gravità zero in una particolare direzione. Sì, perché quando Pris fece partire la palla, come i film tridimensionali confermano, questa era già puntata esattamente in direzione del cuore di Bloom. Incidente? Coincidenza? Delitto?